C'è un comunicato stampa di Gianluca Quarta di Forza Italia. Durante la giornata di ieri sera, su segnalazione di numerosi cittadini, ho avuto modo di constatare nuovamente lo stato di abbandono della stazione ferroviaria di Brindisi. Intanto ad oggi un disabile non ha neanche la possibilità di poter arrivare autonomamente sui binari e nella serata di ieri si è giunta anche la problematica riveniente dalla mancanza di illuminazione. Durante il mio sopralluogo, questa è la foto che ha legato Quarta nel suo comunicato stampa, decine di Brindisi hanno rinunciato nel percorrerlo per questioni di sicurezza. Non bisogna dimenticare che il sottopassaggio svolge tra le varie cose una fondamentale funzione di raccordo tra il quartiere commenda e il centro. Conclude il consigliere comunale Quarta, ci auguriamo alla luce di questi avvenimenti che il comune di Brindisi si adoperi immediatamente risolvendo il problema dell'illuminazione nel sottopassaggio, ma anche contestualmente ripristinando il funzionamento del montascale per disabili che in fase di discesa è affidato alla gestione di molti servizi e in fase di salita ai binari ad una società esterna verso la quale però è scaduto il contratto d'appalto. Spieghiamo infine che il comune di Brindisi convoche al più presto una conferenza dei servizi con ferrovie dello Stato, individuando le modalità e le risorse necessarie per dare un miglioramento sulla qualità dei servizi per i turisti, per i pendolari, per i cittadini brindisini e sull'implementazione degli standard di sicurezza e rimozione delle barriere architettoniche nella stazione di Brindisi.